Iniziamo la giornata con Vincenzo che è andato a prendere i panini Prosciutto cotto Allè E' carino questo preserva Madonna Sto latte fa un casino, non mi ho capito perché Carino con l'abberello Buongiorno, bentornati in un nuovo vlogmas Non sappia io che giorno sia Ma comunque buongiorno Allora, a parte i miei capelli Ieri mi sono fatto già lo shampoo Perché poi stasera andiamo al compleanno di mia cognata E ha fatto anche lei 30 anni Abbiamo un annetto di differenza Lei è nata il primo dicembre Però festeggerà oggi che è il 2 dicembre Aspetta, devo prendere il caffè Io sono nata il 21 novembre Cioè io 92 e lei 93 E quindi stasera Madonna raga, non so neanche cosa prendere Perché mi ha cognata a tutto Aspetta che prendo pure una scatola Mi ha cognata a tutto Non gli serve nulla in particolare Hai capito? Però Ma vediamo un po' Non ho idea Vorrei fare Tipo un salto da junior Per vedere qualche bella decorazione Natalizia Quindi vediamo un po' Non lo so Non ho proprio idea Il caffè E come per le altre cose Capita che taggo la pagina Della marca Del prodotto E ogni tanto io taggo Solo espresso E mi hanno regalato La scorsa volta La settimana scorsa Mi hanno regalato Un altro pacco di caffè Poi in questi giorni Mi hanno mandato un messaggio Dicendo che avevano operato Un codice sconto Un codice sconto E se non erro Ve lo scrivo anche qua sotto E debbi 10 Sul sito appunto Solo espresso Infatti quando mi mandarono il messaggio Io dissi Grazie Grazie Perché è veramente buono Come caffè Raga Veramente scivante Deve dire E' buono Molto molto buono E poi lo fanno ad angri Cosa che io non sapevo E che mi ha fatto scoprire Una di voi Ma io non lo sapevo E cagna Ho riempito nuovamente La cosa Questo qua Praticamente Il pacco d'accento Dove ci escono Vedi bicchieri Zucchero E le palettine Quelle le avete In legno per mescolare Il pacco d'accento Il pacco d'accento E in sensazione E in legno per vendolo Si è rammais Il pacco d'accento Vedi Samattini marmellata, burro qua e latte E giusto quattro fette biscottate Così le tolgo da mezzo Che si sono fatte pure un po' stantive Ma non so come si dica in italiano Ma siccome sono aperti da tanto tempo Sono un po' più secchiette, capi? Ah, dopo vi faccio vedere lei Gli metto stasera e mi ha fatto mamma L'ha fatta lei la borsa Mi sta facendo tutte le borse Com'era? Buona? Pasta e fagioli, questa qua era di ieri Così come mi accompagna a tua? Io non mi ando un pidale, comunque tutto bene, tutto a posto E l'ho riscalda da oggi col burro Avevo messo da parte il sughetto, ci ho unito pure il sughetto Jacopo c'ha l'herpes Cadiene ancora la mulignana Sempre sulla quarta, sempre la stessa E comunque questa è E' tra di loro, ma si fatte? Non so fare, ne? Io sono che aggressivo, sono che animale Allora ragazzi, scendiamo Io e Jacopo, io mi sono fatto Ah beh, ieri lo shampoo è passato, oggi la piazza Mi sono fatta già la docce Tutta la pelamma E quindi per stasera sto pronta Mi devo solamente vestire, non so cosa mettermi Ho una mezza idea, ma non lo so Tu sei più grande di Zia Maraglia Zia Jessica Zia Jessica ha fatto 30 E io 31 E poi lei fa 31 e tu fai 34 32 Allora ho in mente di prendere a mia cognata alla fine Qualcosa di Natale No, lei va di che non ti ha mai seguito Tipo una, capito? Quelle giostrine di Natale Perché a livello di abbigliamento No A livello di accessori no Perché comunque lei ha i suoi gusti Le sue, insomma, le sue cose E quindi va bene così Ti prendo qualcosa di Natale Sperando di trovare qualcosa bella Qualche giostrina bella E poi devo prendere anche le Quale giostrina? È per Zia Jessica Per compiello? Eh Questa è l'idea Poi vabbè vediamo cosa trovo Poi devo prendere le candele Perché domani è la prima domenica dell'avvento Quindi le candele Se le trovo Se le trovo colorate Quindi tre viola Una rosa Una rossa E se la celeste per l'immacolata Ma la giostra? Non le candele O altrimenti le prendo tutte bianche Tutte rosse Vediamo un po' cosa trovo Un rosa Un roso E poi Aspettate che ho già messo Il telefono Sotto carica Ma vabbè Ancora non va Oddio Non è partita la macchinina Ma io mi metto pure un metà Nei giocito Poi che devo prendere più? Non mi ricordo Ah volevo vedere se trovo pure un regalino Per esempio per nonna Rosaria Nonna Italia Per Natale Capito? Almeno prendo già qualche pensierino E che sei? Ma ci manda fu Il tempo qua fa schifo Per nonna Italia? Per nonna Italia Ma vediamo cosa troviamo di Di bello La parola come le schiene che la tenga Accendiamo le luci Perché Il tempo non è buono Sono sempre in base Don ci sono e la scuola come le schienesvi Non è buono E ti manda fu E' buoma E' buoma quando ho preso la patente quando ho preso la patente ho preso anche la macchina vedi quante belle corsine che ci sono andiamo a fare un giro saliti qua che ce la salite guarda questa berella guarda la giro buone pesche attento che si passano le persone guarda quante tovaglie tappeti maronna stella luce stai piano piano vai andiamo guarda qua quante caramelline guarda qua quante caramelline vediamo un genio vado un attimo con mia dai cinesi è spietta andiamo a prendere l'altra carta regalo perché quella l'ho preso non andiamo bene è troppo piccolina e ora andiamo un attimo vado a piedi così gli faccio fare pure una bella passeggiata però non neanche sia mi piace che quando cammina salta con i piedi dietro andiamo andiamo metti seduta aspetta che sto coso non so se stringe troppo metti seduta carta presa e come vuoi correre che sta non giusto ho un bagnere dottosso tu andiamo basta su fatta la passeggiata siamo stati una buona mezz'oretta siamo passati pure in chiesa un attimo ecco qua aspetta ma la lascia guarda ma guarda che vuoi correre aspetta aspetta no 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 questo no questo no ti tiro questi aspetta sei pronto o tiro aspetta o tiro guarda lì aspetta aspetta non so non so non so non so non so andiamo corri mamma corri qua qua oh caro vai vieni qua non so non so non so corri che si chiude la porta mamma se stanno 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 vieni o lascia non so non so andiamo 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 non vieni qua qua e qua andiamo vieni arrivi a casa si sta piegando guarda io che bella condizione guarda che è mamma che è piccolina piccolina in che condizione guarda ma questo no ma fuori con la zia jessica si scema ma fuori con la zia jessica ciao appiglianza ciao clona guarda guarda tutto il vestito che ha stracciato lei guardala guardala andiamo vieni a mamma basta questo no papi 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 ma vedi che come va tu a una corte di colla dai voglio farviare questo irvi giuseppe si sta dedicando abbiamo potuto comprare due pezzi di carta giuseppe è stato bravissimo e li ha attaccati li ha uniti perché il pacco è grande ah mo però no non è meglio che si così va buoni che ti serve lo scoccio guarda guida oh e watch a choir perform in all the christmas songs that we love yeah all the christmas songs that we love and in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire cause all i want is to spend this day with you let me give you a christmas a moment we'll fill with love and joy mmm so beautiful kissing on a mistletoe's baby with you I don't need any presents as long as I spend this day with you mmm so beautiful kissing on a mistletoe's baby with you apple spacchetto con blegato Giuseppe è precisa sorelline suoi ragazzi siamo pronti andiamo via ai mia già bai ai Jacopo regalone è pronto ok c'è un po' di me oggi si annuncio sta qua e Vincenzo con mia suocera io mi sono andata proprio una sistematina veloce ho messo questi orecchini che ho presi sempre dai cinesi a un euro ma questa è una roba che ti ho scattato che cosa? e ricchini che li laim e me che sempre ma che mi sovro che ripiglia la cintura la burzetta ti vuoi sombrare no? no ma mi sa con la nina che sta qua vedi di sacro cuore ecco l'ororo bellino sarò sarò ci ho messo pure lo tacchetto chissà che cosa ci mangiamo stasera cosa ci mangieremo? comunque non ho messo nessun rossetto ma il... il burro cacao quello là che c'è il viola? viola amarena che gusto è buco? non so non 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 abbiamo abbiamo questo è il resto non 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 che è un altro non è un altro ma comunque non No, no, no. Bate il cuore, mangia piano piano. Buonissima, veramente buona buona buona. Buonissima, buona 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 buona. Grazie a tutti